Campanile, di solito cerco di evitare il Powers Club Il protetto di Bruce Wayne che declina l'annuale invito Di nuovo, che maleducazione C'è qualcosa nella Gotham Bene che mi fa venire voglia di farmi una doccia Sono dentro Attenzione, facci sapere se trovi qualcosa Hanno qualche guardia Anche a te hanno detto di fare una lunga pausa pranzo Non me lamento, non è male tirare un attimo il fiato Cosa avrà fatto il poveretto? Quale poveretto? Per quel che ne so io ho vinto una pausa più lunga Poveretto? Bene, ora posso ficcanasare in pace La R.A. mostra una scia di sangue Chissà se vede altro C'è qualcosa sotto il pavimento Il portello è connesso a una sorta di rete Ci deve essere un modo per aprirlo Questo posto mette i brividi Non dirlo a me C'è gente che entra in un S più Era l'ultima cosa che volevo sentire Non vedo l'ora di finire il turno Non vedo l'ora di finire il turno Non vedo l'ora di finire il turno Un po' troppo scontato Ed è fatta Mi hanno detto che avrei lavorato in un club Mi ero fatto un'altra idea È un club per gentiluomini Per quel che vale Dico solo che speravo in qualcosa di un po' più sci E sono inquietante Tanti Sono soldi facili Non dobbiamo manco vederli Gli snob Che storia è quella? Chi se ne frega? Meno ne so, meglio è La situazione inizia a farsi seria da queste parti Sì Perché così tanta security? Vai a sapere Chi ha i soldoni vuole sentirsi importante Chi ha i soldi? Chi ha i soldi? Che cos'è? Che cos'è? Dovrò leggere tra le righe E andiamo Che cos'è? Scali nascoste, brutto segno. campanile ho trovato delle scale nascoste scendo campanile niente non va bene abilita registrazione in via appena possibile strano il sangue porta direttamente al muro non vedo l'uscita ma ce n'è sempre una ha fatto qualcosa la corte dei gufi osserva di ombra incappucciata nascosta tra le mura comanda incontrastata però non farne il nome nemmeno a mezza voce o manderà l'artiglio che calerà feroce perché è stato fin dove arriva la sua morte ha aperto le porte a una nuova acquisizione bene cerca però di essere prudente quando le lasci indagare caro e per quell'altro noia abbiamo corrotto il senatore la sua legge verrà approvata il mese prossimo oddio oddio avere a che fare con la feccia scusa signora devo portarla sicuro dei topolini vi fanno così tanta paura siete troppo deboli l'unica via è passare di lì non passa nessuno la cerimonia non può aspettare non me lo farò ripetere è la nostra occasione di farci notare dalla voce non c'è di che fin SECOND ripensate ricompensato rinuncio di che ti vinci ripensate ricompensati Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qualcosa non va. Lightwick! Grazie a tutti. Ma quanto sangue ha perso? Deve essere il proprietario di quel sangue. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La corte sarà lui a decretare la condanna. La corte! Non perdono il suo fallimento. Devi pagarlo con il sangue! No, vi prego! Farò qualcosa! Questo, parassica, non è il tuo posto! L'ultima volta che un intruso ha messo piede qui è stato più di un secolo fa! la punizione per la punizione per questa offesa è ancora la stessa! No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non va affatto bene. Quante vittime. È una fossa comune. È una fossa comune. Lieto di riaverla online. Cosa è successo? Va tutto bene? Credo di stare bene. Quello che è successo è roba da raccontare davanti a una bottiglia. Te lo dico quando torno. Ricevuto. A presto.